Nuovi tagli e accorpamenti per sbloccare nuove assunzioni. L'assessore regionale alla sanità Baldo Gucciardi vola a Roma per la benedizione del Ministero, la nuova bozza di rete ospedaliera siciliana che punta a sbloccare il sistema delle assunzioni congelato da tempo. Coinvolti ben 5.000 dipendenti del settore nell'isola, tutti appesi alla decisione che spetterà il dirigente generale del Ministero Renato Botti, chiamato a verificare la linearità tra il nuovo piano regionale e le norme nazionali. Circa 150 reparti saranno unificati, circa 60 tagliati entro fine giugno. Naturalmente, rassicura l'assessorato, le direttive per le nuove assunzioni avvantaggeranno i dipendenti storici e i precari. In queste ore, spiega Gucciardi, sono stati firmati gli ultimi atti aziendali, poi si dovrà compilare una lista del personale in esubero dal quale le aziende dovranno necessariamente attingere in via prioritaria. Un piano suddiviso in parti cronologiche, scorrimento delle vecchie gradatorie, stabilizzazione dei precari, mobilità e successivamente il via ai nuovi concorsi, con circa 9.000 posti disponibili. Per il via alle assunzioni, ha chiedito poi Gucciardi, si dovrà sempre passare da un'autorizzazione preventiva, verificando che i bandi siano conformi ai criteri del decreto ministeriale. Per il settore più attinto è interessato dai tagli fin dall'inizio dell'amministrazione Crocetta. Sembra essere giunto il momento della verità.